Sì lo so i miei capelli sono stradissimi ma questo rega è perchè ho cambiato la postazione e questo per quale motivo al raggiungimento del milione di iscritti finalmente farò la postazione e via cioè vi farò vedere appunto tutta la postazione quindi mi raccomando ciurma sapete cosa fare Oggi finalmente rega dopo ben 5 giorni siamo tornati su GTA 5 gioco che in realtà non vi portavo da un botto di tempo però adesso rega mi è rivenuto a voglia quindi mi raccomando spolliciate se volete appunto un altro episodio E in realtà rega oggi abbiamo una missione parecchio importante infatti dovremo comprare l'aereo più grande più ingombrante più assurdo di tutta GTA 5 non sarà facile rega perchè io rega di aeree non ne conosco nemmeno uno sinceramente comunque direi che per iniziare al meglio facciamo un salto all'officina dell'arena a finire quello che avevamo iniziato l'altra volta cioè i camion più grossi assurdi e ignoranti del gioco ma siccome noi non siamo normali per andarci non utilizzeremo un mezzo normale utilizzeremo una bella vigilante Cos'è che mi hai detto cos'è che mi hai detto cos'è che ma a te te vuoi trovare da te vuoi trovare da dire te vuoi trovare da dire vieni qui vieni qui allora fermo cos'è che mi hai detto cos'è che vieni qui vieni qui vieni qui allora cioè rega mi ha detto di muovermi a me l'avete sentito tutti mi ha detto di muovermi a me mi hai detto di muovermi a me ma rega ma come cacchio cammina come corre questo poverino ecco guarda cioè ormai ho fatto più strada per andare a prendere la mia macchina che mi servirà ad andare all'arena rendiamoci conto lo so poi la lascio in mezzo la strada Vabbè comunque rega sta macchina è una figata incredibile io penso che in assoluto sia la mia macchina preferita di gta 5 cioè troppo bella ecco l'abbiamo già distrutto fantastico direzione officina dell'arena let's go ok calma calma freni freni quel bidone non c'era quando sono arrivato manco qua manco qua manco la ringhiera manco il palo cioè rega non c'era niente quando sono arrivato eh tranquilli allora calma no qui devo girare dovevo girare lì e vabbè manco il palo manco quest'altro palo manco il garage era già così quando sono arrivato io via andiamo c'era rega prima che arrivi la polizia che qua è un gran casino tef tes mamma mia conto gli sono andato vicino a quelli ah intanto mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanella il codice cap rega e soprattutto iscrivetevi al canale perchè stiamo vicini al milione ah e c'è anche instagram mi chiamo capitale zero official let's go macchina parcheggiata cos'è che dovevamo oh vabbè rega il camion che figata che sta roba alla fine mi sa che non l'avevamo nemmeno più provato cioè almeno ho provato modificato in questo modo ci sono anche un sacco di odio no aspetta un attimo spero voi stiate scherzando cos'è sta roba super figa rega lo dobbiamo modificare assolutamente prima cosa i freni vabbè sono già quelli da gara perfetto turbo potenziamento turbo 100% direi oddio che figata che sta roba no vabbè rega salta anche che figa oddio sopra eh vabbè ma se io vado contro una macchina con sto no stai scherzando spero se io invece vado in ritromarcia aspetta un attimo allora mi metto tipo così dietro c'è una specie di lama quindi se io vado in ritromarcia contro qualcosa contro contro il camion no no ho sbagliato ho preso ho sbagliato mamma mia rega non riesci a girare con sta macchina cioè ma dove cacchio gli para lei no rega fa un disastro sta macchina fa un disastro sta macchina e poi posso anche sparare con sta macchina rega 5 stelle è easy anche perché mi sa che è tutta blindata quindi non ci fa nemmeno danno contro il camion contro il camion oddio vabbè qui qui si è un po' frantumata ecco no rega guardate anche al lato c'è la lama no vabbè è assurda sta macchina e poi va anche veloce troppo veloce non hai controllo con sta roba è assurda intanto non so come sia possibile che abbiamo una stella perché abbiamo scatenato praticamente il panico abbiamo ucciso 3 4 persone 4 5 macchine volanti vabbè saltiamo no il ponte te levati di mezzo levati di mezzo che non abbiamo tempo si è aperta la portiera intanto vabbè levatevi tutti le va oddio oddio ricordiamoci che oggi abbiamo la missione di comprare l'aereo il più grande del mondo quindi non perdiamo troppo tempo con sta roba però almeno 3 4 stelle voglio arrivarci ma non c'è nessuno in sasta cioè rega dov'è che vado in autostrada a far casino ah per forza mi sa perché qua non c'è veramente nessuno oddio che figata oddio 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 ecco perfetto che buono ho fatto via levatevi tutti di mezzo calmi rega calmi rega qua la situazione si sta facendo complicata stanno volando pali stanno volendo macchine le portiere stanno volando oggetti di ogni tipo e te che e te oddio c'aveva ancora una bella macchina quello lì la dovevo andare a prendere rega obiettivo far più casino possibile venite qui ne stiamo facendo un bel po' di casino eh direi che ne stiamo facendo un bel po' di casino quello poverino mi sa che ma rega la polizia oh finalmente no perché la polizia non mi stava nemmeno vedendo e quante macchine esplodono rega mi sa che tra poco esplodo anche io eh mi sa che ne sto facendo un po' troppo di casino oddio la macchina non va dritta allora stiamo tutti calmi stiamo tutti calmi rega sta mitraglietrice fa un casino pazzesco oddio fermi tutti levati di mezzo te non vedi che devo passare io levatevi tutti di mezzo levatevi tutti di mezzo mi sa che si sta anche distruggendo un po' troppo sta macchina buongiorno let's go bene raga no rega andare contro la polizia così è fantastico ma aspetta sono ancora vivi come fate anche essere ancora vivi te che vai troppo veloce oddio no sono fuori strada sono fuori strada sono cascato sull'albero oh cos'è successo ho perso entrambe le portiere io intanto no rega ha preso fuoco ha preso fuoco mi sa che mi tocca uscire si 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 devo uscire rega devo uscire assolutamente quale macchina prendo prendo questa qui prendo questa qui stai fermo stai fermo a co porca miseria direi che è meglio pensare agli aerei e infatti rega momento di andare su internet e cercare effettivamente dove cavolo vendono sti aerei io non mi ricordo se su warstock c'è qualcosa di carino però penso di sì e infatti e infatti rega c'è qualcosa di carino oh cacchio oh cacchio questo è l'assoluto l'aereo più grande che abbia mai visto su gta 5 e lo acquistiamo per 3700 let's go dove cavolo ce l'hanno portato sarà presto consegnato il tuo hangar ok dopo dovremo vedere dove cacchio c'ho l'hangar perché qua rega è un bel casino poi il p996 laser rega ce lo prendiamo perché costa 6500 però è stra veloce tipo ah l'hai già sbloccato a posto io rega ho un problema con il mezzo milione di dollari che ho su sto gioco non guardo se le cose le ho già comprate e cos'è sta figata pazzesca no rega lo voglio lo voglio cioè aspetta un attimo fatemi capire io posso avere un'autopompa personale qua rega c'è qualcosa di carino oddio quanti cavolo ce ne sono di aerei ci sarebbe anche il miljet però non è che mi facciano impazzire questi perché sono grandi in gombra il blimp però ce lo prendiamo ordina il colore che preferisci che palle rega che palle vai io voglio che palle acquistiamolo e let's go dove cavolo ce la portano presso la pegasus ok quindi rega dopo dobbiamo ricordarci di andare alla pegasus e all'hangar ci sarebbe anche il luxor deluxe rega però costa 10 milioni va bene dai va bene va bene va bene nel dubbio noi ce lo prendiamo ah l'ho già sbloccato ok mi sa che ha la pegasus il luxor ultralight è tipo uno degli eri più ignoranti che abbia mai visto però non lo compriamo per ora ma io rega comunque si dovrei anche comprarmi qualcosa di carino effettivamente cioè nel senso una casa carina magari qualcosa in cui vivere decente perché sono mezzo milione mezzo miliardo di euro in sto gioco fa vedere un pochettino gli attici oddio rega wowu fa vedere no vabbè io rega lo voglio prossimo episodio compriamo un attico da tipo 10 milioni direi che è arrivato il momento rega di avvicinarci al nostro hangar via let's go direzione hangar e io vi giuro che non so perché ho questa grafica della macchina e non lo voglio nemmeno sapere perché no e questa cosa spara pure questa oddio lo schiantiamoci troppo tardi troppo e vabbè però che cavolo passo io guarda un po' no via let's go let's go sta arrivando il pericolo pubblico fatevi avanti signori nino 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 ma 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 che cavolo ma devo passare ci mettono tutti in mezzo mi tocca anche spararglielo erca miseria te oh easy sono spawnato anche dentro al mio hangar perfetto è il mio hangar questo boh vabbè spero di sì comunque se prendo in prestito questo camion no ok no 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 rega 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 mi sa che ho fatto una cavolata mi sa che ho fatto ho fatto una gran cavolata porca miseria ora ora mi tocca anche scappare ora mi tocca anche scappare dov'è il mio veicolo personale ok laggiù apri sto coso ah ma non era qui il mio veicolo personale vabbè ho rubato qualcosa ho rubato mi sa un altro p996 laser va bene via 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 che è meglio via che è meglio oh ecco finalmente l'ho trovato vediamo un pochettino che cosa c'è qui dentro oddio rega cos'è sta co oddio no aspetta aspetta un attimo rega ma quanto è grosso è gigante no raga è gigantesco è gigantesco però prima di provare sta cosa enorme che dovrebbe essere l'aereo più grande in assoluto di gta 5 volevo prima quel coso minuscolo che avevo comprato però non penso che sia qua rega quella specie di mini carro armato che non ho già non ho capito dove dov'è guarda ma per salirci rega devo far 26 km perché è troppo grosso no vabbè è enorme fantastico ma perché c'è sta grafica no aspetta quanto ho capito lo posso anche modificare quanto è grosso no posso anche lanciare i flare ok rega sto coso è una figata atomica il problema è che va veramente piano ma è gigantesco c'è planarco sto coso all'inte come aspetta premia per sganciare una bomba ops posso sganciare le bombe allora stiamo tutti calmi qua io da quanto ho capito rega sto veicolo lo posso addirittura modificare voglio capire quali sono le modifiche disponibili per esempio armature più 100% contromisure abbiamo il flare si motori già potenziati bombe a grappolo livrea allora vediamo un po' le livrea no rega che figata metallizzato allora spirito della notte ci sta cioè sarebbe tutto cromato sarebbe molto molto bello però strisce curve no dai mettiamo spirito della notte che vi piace un botto rega proviamolo subito oh mio dio rega che bello che è sto aereo adesso via let's go ma cioè è grossissimo è ingombrantissimo neanche modificato al massimo perciò più di così rega purtroppo non si può fare allora apriamo il vano bombe no ok ho sparato qualcosa premio b per attivare odio no qui abbiamo la visuale da bombardamento dove si vedono le bombe figata rega potremmo andare in autostrada a fare un bel che è successo quante ne lanciate le bombe potremmo andare stavo dicendo qui a fare un bel po' di casino eh mannaggia sto aereo quanto cacchio no rega è troppo ingombrante è troppo ingombrante odi stai fermo ho stricciato mi sa troppe boh ok rega 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 dobbiamo otterrare purtroppo dobbiamo otterrare allora con calma eh cerchiamo di ripartire anche se la cosa qui direi che è molto complicata no rega non riusciamo più a ripartire no e adesso oddio che casino mi sa che ho preso un'auto si mi sa che ho preso rega 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 mi sa che sto facendo è esploso tutto mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale perchè siamo vicino al milione e rega c'è il mio aereo esattamente dove l'ho lasciato mi raccomando inoltre instagram è stato un ufficiale e detto questo ci vediamo al prossimo video un bel like se GTA vi è piaciuto se volete altri episodi ciao ciurma iscriviti al canale